Buongiorno a tutti quanti voi, buon lunedì, lunedì 6 novembre 2023. Innanzitutto saluto e ringrazio Enzo Leonetti in regia. Inizio la nuova settimana, la prima settimana per intero del mese di novembre. Sappiamo bene che la scorsa settimana caratterizzata anche da un giorno festivo, il primo novembre, è stata di fatto la prima con il nuovo orario, ma non la prima intera nel mese di novembre, essendo iniziata nel mese di ottobre. Ebbene, una settimana che inizia con tanti argomenti, alcuni sicuramente non belli che arrivano dall'Italia e dal mondo, ormai lo sappiamo già da qualche settimana. Stiamo parlando della difficile situazione in Israele, ne parlano le prime pagine dei giornali e il conflitto sembra essere davvero un'escalation che prosegue, un'escalation di violenza e di notizie sicuramente non belle. Ma in questo fine settimana, adesso il peggio sembra essere alle spalle, ma in questo fine settimana e negli ultimi giorni appunto della scorsa settimana, abbiamo parlato molto del maltempo, degli allagamenti che ci sono stati in Italia. E maltempo un po' in tutta la penisola, soprattutto al centro nord, lo sappiamo bene, soprattutto in Toscana, con la situazione che è davvero precipitata in alcuni casi, danni, allagamenti. Tra l'altro anche la protezione civile calabrese è partita alla volta della Toscana per dare una mano. Mentre la perturbazione che è arrivata comunque al sud, l'avamo detto già venerdì, avevano detto i nostri esperti in collegamento anche nel nostro telegiornale, che la perturbazione avrebbe solamente l'ambito, il meridione, l'ambito, la Calabria. Così è stato fortunatamente, abbiamo avuto venti forti, abbiamo avuto anche delle precipitazioni, ma fortunatamente nulla di paragonabile a quanto accaduto in Toscana o anche in altre occasioni, in Calabria stessa, ma anche in altre regioni d'Italia purtroppo. Parleremo poi anche di tanti altri argomenti riferiti alla Calabria, parleremo di sanità, lo faremo a breve con una notizia che riguarda alcuni ambiti territoriali. Parliamo di Città Unica a proposito ed è un argomento sempre più caldo perché oggi è prevista, sabato abbiamo parlato a lungo nel nostro telegiornale, ma anche qui in prima pagina di Città Unica, ascoltando le diverse opinioni, diversi pareri. Abbiamo ascoltato la Presidente della prima Commissione, la Presidente della Commissione Affari Istituzionale, Luciana De Francesco, che oggi riceverà in audizione il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha anticipato i temi anche nel corso della conferenza stampa e l'abbiamo sentito. Quindi si continua a parlare di Città Unica proprio in questa giornata. E poi parleremo di sport perché non è stato un bellissimo fine settimana per le squadre calabresi, anzi direi per niente buono. Ha pareggiato il Cosenza, ma in casa contro l'ultimo in classifica ci si attendeva qualcosa di più effettivamente, così come anche ci si attendeva forse qualcosa di più anche la Catanzaro, che in vantaggio 1-0 con il Modena si è fatto rimontare proprio allo scadere, ha perso in casa al Ceravolo. Ne parleremo, sentiremo anche Caserta e Vivarini, insomma tanti argomenti. C'è anche il calcio di Serie A con i suoi spunti, con quelli che sono i risultati, i commenti dopo la giornata di campionato. Insomma davvero tanti tanti argomenti. Allora noi iniziamo come sempre dalla prima pagina di Gazzetta del Sud. Questa è l'edizione calabrese, perché come sapete lunedì c'è un'unica edizione, quella calabrese. Non ci sono le tre diverse prime pagine divise negli ambiti territoriali. Allora andiamo a vedere la prima pagina di Gazzetta del Sud che apre con il lavoro. Un piano straordinario per il lavoro, titola Gazzetta del Sud. La Regione convoca il tavolo con tutti gli attori coinvolti, priorità a formazione e smart working. Per sostenere i contratti di oltre 5 mila precari si spendono 91 milioni l'anno. Andiamo nel dettaglio. Abbiamo magari più tempo, oggi avendo una sola prima pagina, un piano straordinario del lavoro in Calabria da redigere con il supporto di tutti gli attori coinvolti. È l'obiettivo individuato dai vertici della Regione come risposta a una crisi occupazionale senza precedenti. Il primo step di questo percorso si consumerà lunedì 13 novembre, quindi il prossimo lunedì, fra sette giorni, alla cittadella con l'insediamento del tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro, previsto alla legge che ha dato vita all'ARPAL. Alla riunione presenti i rappresentanti di IMS, INA, il Camere di Commercio, sindacati e parti datoriali. Dunque si punterà a mettere in campo tutte le risorse disponibili sulla formazione nei settori edilizia, turismo e agricoltura, oltre all'incentivazione dello smart working per chiudere accordi con le multinazionali interessate a investire in Calabria. Questo per non alimentare bacini di precariato. Oltre 5.400, quelle legate alla Regione che costano ogni anno, oltre 91 milioni. E' questo, insomma, il nuovo piano straordinario per il lavoro. Lavoro che, sotto un certo punto di vista, rischia di essere perso. Alcuni posti di lavoro rischiano di essere persi a Gioia Tauro, al Porto. Ne stiamo parlando da diverse settimane, perché questa direttiva dell'Unione Europea, che per quanto può essere magari anche condivisibile da un punto di vista ambientale, è una direttiva che di fatto penalizza lo scalo calabrese e alcuni scali europei, soprattutto quelli del sud d'Europa. Perché? Perché le compagnie che devono pagare quest'ulteriore tassa preferiscono a questo punto far scalo nei porti africani. E questa è una perdita economica molto importante per i porti europei, e in particolar modo quello di Gioia Tauro, perché si parla di una direttiva che coinvolge appunto l'Europa e non l'Africa. E quindi, per un buona sostanza, sono penalizzati i porti europei. Si chiedono interventi, si chiede una modifica di questa direttiva all'Europa, l'ha chiesta la Regione Calabria, la sta chiedendo il Governo. E, come scrive Gazzetta del Sud, Gioia Tauro attende una soluzione. Intanto, lunedì 20, quindi fra 15 giorni, lunedì 20 novembre, il Ministro Salvini sarà al porto di Gioia Tauro. Chissà se attaccherà l'Unione Europea sulla direttiva ETS. In attesa dei sviluppi sulla complessa vicenda, la percezione del lavoratore e dei sindacati è che stia venendo meno la tensione emersa quando scoppia il caso della direttiva ETS. Poi il rischio di una delocalizzazione del traffico verso il Nord Africa è sempre concreto. E quindi, ecco che, diciamo, è un po', se ne parla di meno, e allora c'è tanta paura, tanta preoccupazione, perché si è un po' scemata l'attenzione anche mediatica e si rischia quasi che le cose possano proseguire sotto questo andazzo e quindi penalizzare i porti calabresi. Andiamo a parlare un po' di politica. La politica, la maggioranza medita, scrive Gazzetta del Sud, tra i vari nodi del premierato è la possibilità di un referendum. La riforma costituzionale non è blindata, ma le richieste di modifica dovranno essere coerenti con l'impianto del test approvato dal Governo. Il Ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, spiega quale sarà l'atteggiamento alla maggioranza durante l'esame del premierato in Parlamento. Disponibilità al confronto, ma senza che si mettono in discussione i cardini del provvedimento. Quindi è una maggioranza che va sempre più spedita verso l'approvazione di questo premierato, anche se viene ribadita la grande disponibilità all'ascolto su alcuni nodi, come il premio di maggioranza, la soglia di sbarramento, la sfiducia e anche l'eventuale ballottaggio. Un'ipotesi, l'ultimo, il ballottaggio, non vista bene dalla Lega. Insomma, poi c'è anche Italia Viva che solleva anche alcuni aspetti particolari sul bicameralismo perfetto. Sappiamo bene, insomma, Italia Viva, come in passato, è stata protagonista in tal senso. A proposito di questioni nazionali e internazionali, non possiamo non parlare purtroppo di Israele. Gaza, l'attacco più violento, la carta Abu Mazen, israeliani implacabili, città isolata, ogni collegamento interrotto, gli Stati Uniti e la via palestinese per la pace. Raid anche sul Libano, colpita l'auto del reporter, morte la sorella e le tre figlie. Insomma, arrivano sempre più notizie drammatiche sul fronte israeliano. E poi, giusto per non farci mancare niente, Putin, riuscito il test, ha lanciato un missile dell'Alexander III, del sottomarino nucleare. Prove muscolari vengono definite di Mosca e l'imperatore Alexander III ha completato ieri con successo l'annunciato lancio di prova del missile balistico Bulava. Lo scorso novembre il presidente russo Vladimir Putin ha firmato a legge che ritira la ratifica del trattato che vietava i test sulle armi nucleari. Insomma, come dire, per certi versi possiamo dire di male in peggio. Insomma, questo sembra essere davvero la questione. E poi ancora il maltempo. Altra notizia che, per forza di cose, ha occupato le prime pagine dei giornali in questa fine settimana e anche inizio della nuova settimana, quando sembra che adesso le cose possono essere migliorate. Lo speriamo davvero. La Toscana ferita, prima a conta dei danni, 500 milioni. La tempesta Ciaran, lo ricorderete, è il nome che ha investito il centro Italia. Ancora forti pioggi sulla Toscana, colpita dal maltempo, ma il peggio dovrebbe essere passato. Cresce la conta dei danni all'incirca mezzo miliardo per l'area, Firenze, Prato, Pistoia. E poi saranno da quantificare gli interventi a Pisa e Livorno. Migliaia di utenze senza corrente. Insomma, è una situazione molto, molto particolare. Prima di passare alle notizie che arrivano dalla provincia, dalle diverse province calabrese, quindi dalla Calabria, parliamo di calcio. Questa volta calcio Serie A. La Juve di Allegri, l'Anti Inter, a Firenze, decisivo Miretti. Bianconeri a meno due alla vetta. La Roma vince in rimonta, 2-1 nel recupero sul Lecce, grazie anche a Lucaco che aveva sbagliato un calcio di rigore. Quindi questa è la prima pagina di Gazzetta del Sud. Adesso andiamo ad approfondire anche quelli che sono i temi legati alle diverse province calabrese, appunto alla Calabria. Partiamo con l'Università di Reggio. Il Dies, 11 professori, sono fra i ricercatori migliori al mondo. Abbiamo parlato anche della città unica, Cosenza. Oggi l'audizione in Commissione regionale affari costituzionali del sindaco Caruso, Franz Caruso, che sarà sentito oggi a Reggio. Abbiamo anticipato i temi. Già sabato scorso se ne continuo a parlare di questo tema. Il problema non è la città unica in sé, ma è praticamente il metodo adottato in questi casi. E poi tensione sul Capodanno Rai a Crotone. Occhiuto scrive alla madre di Davide Ferreri, lo sappiamo, il ragazzo che purtroppo si trova in coma ancora a Bologna dopo quanto accaduto nell'agosto del 2022. Per la risposta di Occhiuto, la madre di Davide, occasione di rilancio per il territorio. La madre di Davide aveva parlato di mancanza di rispetto per quanto accaduto appunto nei giorni scorsi. O meglio, per l'assegnazione del Capodanno a Crotone. Altre due notizie di cronaca che arrivano dalle diverse province calabresi. La prima di Cosenza. Allora andiamo con un incendio che purtroppo ha devastato alcuni rifugi dai senza tetto vicino alla stazione, distrutti da un incendio, alcuni rifugi di fortuna occupati da senza casa all'interno di un palazzo abbandonato fra la stazione ferroviaria cittadina e il fiume Grati. E poi ancora Isola Capo Rizzuto, a proposito di notizie che arrivano dalle altre province calabresi, non solo del Cosentino, inchiesta sul Tucano, i PM della DDA, della Direzione di Stratto Antimafia, reitenono la richiesta di arresti. L'indagine è incentrata su alcuni reati commessi attorno al villaggio turistico di Isola Capo Rizzuto. Bene, questi sono alcuni degli argomenti, e anzi gli argomenti che abbiamo trovato sulla prima pagina di Gazzetta del Sud, oggi l'edizione è calabrese. A questo punto direte di andare anche sul quotidiano per scoprire quelli che sono gli altri temi, anche perché qui abbiamo un'altra parentesi e la vedremo fra poco sulle pagine del quotidiano. La parentesi alta... Perché fra poco vedremo il titolo, sulla prima pagina del quotidiano del Sud, si parla, ecco, la nostra regia velocissima, a proposito di alta velocità, ci rimanda questa prima pagina, quella dedicata all'alta velocità. Come ben sapete, abbiamo due aperture in prima pagina, il Medio Oriente, Netanyahu, nessun cessato il fuoco, fino al ritorno degli ostaggi, ovvero quella nazionale, e poi abbiamo la questione trasporti. Alta velocità o chiuto? RFI sceglierà il tracciato più funzionale. Un'intervista al Presidente della Regione che parla appunto di trasporti e nei giorni scorsi abbiamo parlato appunto dell'arrivo presunto tale dell'alta velocità in Calabria. Valutazioni in corso per il tratto da Praia in Giù dopo lo stop al percorso autostradale. Il Governatore assicura opera prioritaria e strategica. Si procede senza ritardi, ma serve appunto, lo abbiamo detto, l'individuazione di un nuovo tracciato perché quello esistente sembra non essere adatto per l'alta velocità. Quello Praia-Tarsia, passando appunto da Tarsia, poi Tarsia con il collegamento anche con il settore ionico e poi successivamente anche sul Tirreno, sembra essere anche, passando per la città di Cosenza, tra l'altro in questo caso l'alta velocità, sembra essere di difficile realizzazione, almeno questa è stata la risposta a un'interrogazione parlamentare. Allora bisogna cercare di individuare il percorso adatto per quanto concerne ovviamente le ferrovie da Praia in Giù. Vedremo quindi, non può essere, almeno così sembra, una soluzione che ripercorre per certi versi l'autostrada che affianca in qualche modo il percorso autostradale. Vedremo quella che sarà la scelta. secondo Occhiuto, però si procede, tra virgolette, senza ritardi. Ancora la questione del Capodanno a Crotone e Occhiuto risponde alla mamma di Davide. Possiamo andare a vedere, l'evento è un'occasione per il territorio. Questa è la risposta, ecco la qua, del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, alla mamma dello sfortunato, Davide Ferrerio. E poi, ancora, andiamo a dare un'occhiata a un'altra vicenda. Intervista a Ettore Iorio. La fusione non è rimedio per risanare i conti. Stiamo parlando della nuova città unica. Cosenza rende castro libero. Abbiamo ovviamente tanti aspetti. quello che riguarda diciamo alcuni aspetti che possono essere di identità territoriale, ma anche quelli legati all'economia, perché sappiamo bene le diverse condizioni economiche delle squadre, dei comuni. Detto squadre, perché stavo leggendo già la prossima notizia. La prossima notizia riguarda le squadre della protezione civile calabrese in aiuto alla Toscana, perché sappiamo bene che, l'abbiamo detto, la protezione civile è stata, la protezione civile calabrese è arrivata in soccorso della Toscana, di quella Toscana, in considerazione di quanto è accaduto per il maltempo. Poi ancora San Demetrio Corone, mezzo Europa percorsa in bici, la nuova impresa di Gennaro, sposato, è arrivata a San Demetrio dopo questo lungo percorso, ma poi abbiamo anche un po' di cronaca giudiziaria. Elementi di contatto fra il locale di Ciro e Messina Denaro andrà anche dalle rivelazioni del pentito De Castro. Ovviamente ancora si continua a parlare di Messina Denaro, tante inchieste, lo sappiamo assolutamente bene. Poi ancora a proposito di Città Unica, la De Francesco replica al sindaco che definiva fascista la legge sulle fusioni, da caruso, disobbedienza istituzionale, queste le parole di De Francesco. I toni si alzano un po' in vista dell'udienza di oggi. Oggi il primo cittadino sarà audito in commissione Palazzo Campanella. Lo stesso Caruso aveva definito persona per bene, aveva avuto parole di apprezzamento nei confronti della Presidente De Francesco, Presidente della Commissione Affari Istituzionali e ha dichiarato che proprio per obblighi istituzionali sarebbe andato in audizione oggi, andrà oggi in audizione con delle proposte. Qui però arriva la risposta della De Francesco. Sanità, Trebisacce, ospedale, fuori dal piano emergenza, abbiamo ancora i problemi legati alla sanità e poi nello sport, serie D, Vibonese senza freni, la regina sbanca Castrovillari, Locri, Beffato, Male, Gioiese e San Luca, Volei Soverato al quinto K. Queste le notizie presenti sulla prima pagina del Quotidiano del Sud. A questo punto direi di fare un attimo un salto proprio nel mondo del calcio e andiamo a dare un'occhiata alle pagine interne del Quotidiano del Sud per iniziare a introdurre questo argomento che oggi sarà di stringente attualità appunto nel nostro palinsesto. Lo ricorderete, l'appuntamento non solo al nostro telegiornale ma poi anche alle 15, il consueto approfondimento sportivo con dopo il novantesimo e Catanzaro tra sfortuna ed errori i giallorossi meritavano un risultato diverso ma è necessario anche riflettere la squadra dei Vivarini soffre la fisicità e le squadre che aggrediscono. E allora nella conferenza stampa post Catanzaro Modena c'è un passaggio interessante proprio di Vivarini che parla dell'eccessiva fisicità e di come andrebbe gestita. Andiamo a sentire Vivarini. L'inia di Massima ha trovato una squadra una squadra forte e diciamo noi ce la siamo battagliata ce la siamo battagliata abbiamo cercato di creare occasioni penso che se andiamo a vedere gli episodi loro hanno avuto che ricordi io insomma hanno fatto due gol hanno avuto la punizione e poi altre cose penso che non le abbiamo concesso noi invece potevamo far gol con Iemmelo con Vande ancora con due occasioni di Ambrosino quindi a livello di episodi è l'occasione di Donnarumma davanti al portiere insomma a livello di episodi meritavamo sicuramente noi la vittoria però nel calcio bisogna accettare queste situazioni perché comunque facevamo gol noi stavamo a parlare di altre cose e hanno fatto gol loro e chiaramente siamo un po' amareggiati io voglio adesso siccome due partite due partite voglio portare un attimino l'attenzione alla metodologia che hanno gli arbitri diciamo di arbitrare perché non voglio assolutamente giudicare e non lo farò mai l'arbitro che mi ha arbitrato questa partita però noi siamo una squadra che gioca a calcio noi non cerchiamo mai di buttare palo noi cerchiamo di avere qualità nei movimenti qualità nei giocatori è chiaro che se io subisco una partita tipo Como dove non hanno fatto altro che aggredirci contrastarci ma in modo anche scorretto con il fatto che questo regolamento dice che bisogna lasciar correre bisogna un attimino io devo fare un altro tipo di squadra un altro tipo di calcio perché a questo punto qui non è normale diciamo vedere ogni volta una squadra che da solo esclusivamente pensa a non far giocare l'altra squadra in tutti i modi possibili e la squadra che vuole giocare a calcio che non viene tutelato questo è un qualche cosa che voglio segnalare perché io sono amante diciamo dello spettacolo allora si dice che si danno i rigori che ci hanno dato a Como per fare spettacolo per fare gol ma basta un leggero tocco di mano e del rigoro proprio per accendere le partite per fare spettacolo però calcolate che per fare spettacolo una squadra che vuole giocare a calcio un po' di più di tutela ci dovrebbe essere bene questo è Vincenzo Vivarini tecnico del Catanzaro che abbiamo sentito lamentarsi un po' per quello che è il trattamento nei confronti della sua squadra adesso però parliamo di un altro argomento abbiamo anticipato che avevamo parlato di sanità e diamo un'occhiata a un articolo comparso nel fine settimana su Gazzetta del Sud trasferiti due chirurghi ospedale in Braghe di Tela ennesimo scippo dell'ASP nel Pasquale Ferrari la denuncia arriva dal consigliere regionale Laghi in buona sostanza due medici cubani che erano stati assegnati all'ospedale di Castrovillari vengono trasferiti all'ospedale allo SPOC di Corigliano Rossano la denuncia è partita proprio dal consigliere regionale di De Magistris Presidente Ferdinando Laghi che è collegato con noi buongiorno mi sente? perfettamente buongiorno grazie ecco la vedo allora che sta succedendo all'ospedale di Castrovillari è stato un po' o meglio lei sta denunciando un depotenziamento già da diverse settimane da diversi mesi anche alcuni settini in estate nel corso appunto delle settimane estive ma sembra quasi che ci sia un disegno per depotenziare almeno questo leggo dalle sue parole ma io dico delle cose obiettive e me li faccio ai fatti c'è stata una lettera di trasferimento di due colleghi chirurghi da Castrovillari e Rossano Corigliano senza che nessuno ne sapesse niente cioè né il direttore sanitario dell'ospedale che ha avuto soltanto la comunicazione né il responsabile dei medici cubani a livello regionale e questo ha dato luogo a una vicenda ancora grottesca se non fosse in parte drammatica cioè stamattina perché da stamattina era attivo il provvedimento è arrivata una macchina dell'ASL dell'ASP a Castrovillari per trasferire i colleghi cubani che non sono voluti andare via dicendo che appunto loro non avevano avuto nessuna indicazione e che il loro responsabile non ne sapeva niente roba se mi consente diciamo la battuta da ratto delle sabine ma in ogni caso io vorrei sottolineare un fatto qui l'azienda sanitaria si sta oggettivamente comportando dopo aver detto che si sarebbe partito dall'esistente a Castrovillari nell'Altispoc per allargare per potenziare e nulla sarebbe stato toccato la prima cosa che si fa si dà una disposizione per allontanare due medici cubani e non va bene perché l'ASP dovrebbe governare non soltanto tutti gli ospedali allo stesso modo gli ospedali uguali gli SPOC che hanno identica dignità ma soprattutto dare alle popolazioni che si riferiscono a questi SPOC gli stessi servizi quindi mi faccia capire una cosa dottore Laghi un buona sostanza questa mattina doveva esserci questo trasferimento di due medici cubani disposto dall'azienda sanitaria provinciale di fatto non c'è stato perché i medici si sono rifiutati cosa è successo? per questa è una novità diciamo le ultime ore questa è una novità proprio di queste ultimissime ore cioè dato che questa cosa si stava concretizzando appunto e io l'ho messo nel comunicato stampa senza che sostanzialmente fosse stata preventivamente concordata e non poteva essere concordata perché i numeri parlano chiaro lo SPOC di Rossano Corigliano ha avuto l'attribuzione di 16 colleghi cubani a fronte degli 8 dello SPOC di Castrovilla e i colleghi che sono andati in pronto soccorso sono stati 9 a fronte dell'unico mandato in pronto soccorso a Castrovillari poi i numeri sono lievissimamente modificati perché adesso sono due in pronto soccorso a Castrovillari dopo numerose insistenze allora è successo questo che attualmente i due colleghi chirurghi sono ancora fisicamente a Castrovillari perché hanno rifiutato di salire in macchina ed essere spostati come un pacco postale senza che neanche i loro responsabili fossero stati informati questa è la realtà dei fatti ad ora quindi in buona sostanza in un primo momento se facciamo questa relazione fra Castrovillari e Corigliano Rossano cioè due SPOC due ospedali di uguale importanza al momento dell'assegnazione il rapporto era 6-18 quindi 1-2 praticamente il doppio esatto il 50% esatto dopo questo provvedimento sarebbe dovuto essere visto che c'è stata comunque questa resistenza a questo punto 18 a 6 18 a 6 il triplo ma guardi io voglio andare voglio andare oltre se mi permette qui non si tratta di fare la guerra fra i poveri servono due chirurghi che possono andare da Castrovillari e Rossano Corigliano però il numero totale deve divanere almeno invariato allora io propongo non provocatoriamente realmente una cosa dato che a Castrovillari in pronto soccorso c'è il problema che diciamo della mancanza di personale che addirittura la responsabile ha lavorato con una mano fratturata allora se i due chirurghi debbono andare Rossano Corigliano due dei nove nove colleghi cubani che sono stati attribuiti al pronto soccorso dello SPOC di Rossano Corigliano vanno allo SPOC di Castrovillari così almeno il numero totale rimane invariato senta dottore Laghi siccome siamo vicini alla pausa quindi siamo quasi in chiusura ma io voglio spendere altri 30 secondi per chiederle un commento a quello che è un suo virgolettato che vado a leggere in questo momento lei parla della direzione del generale dell'ASP che si mostra di parte capace solo di garantire precisi ambiti territoriali a scapito di altri da queste sue parole mi pare di capire che secondo quello che è chiaramente la sua opinione si tratta di un virgolettato quindi è corretto quello che ho letto assolutamente sì lo ribadisco ecco quindi c'è un disegno per penalizzare Castrovillari io non lo so io vedo i fatti le ho dato i numeri e vedo che per esempio i concorsi per primario all'ospedale Rossano Corigliano vanno diciamo al galoppo per Castrovillari dove sono rimasti soltanto due primari invece vengono lasciati morire vengono lasciati diciamo nel dimenticatoio non vengono affatto banditi questi sono fatti incontrovertibili che ci spingono a ritene guardi che non è una mia opinione io sono il portavoce di una opinione pubblica che è arrabbiatissima che è delusa e che assolutamente vuole far valere i propri diritti alla salute governare in questo modo significa avere delle preferenze su parte della popolazione della provincia di Cosenza che ha tutta quanta la stessa dignità esattamente come la stessa dignità hanno gli ospedali Spock che sono ugualmente hanno la stessa caratura e hanno la stessa importanza nella organizzazione sanitaria ospedaliera e se posso aggiungere in 10 secondi una cosa c'è anche in atto un ricongiungimento familiare che riguarda la cardiologia cioè c'è un collega cubano emodinamista la cui moglie per qualche motivo è alla mezzia si debbono ricongiungere allora io ho parlato con i vertici aziendali dell'Asp ho anche interessato diciamo i vertici del commissario alla regione Calabria per dire guardate spostiamo per un fatto per un criterio anche economico la collega dalla mezzia a Castrovillari piuttosto che il contrario perché altrimenti noi perdiamo un emodinamista cioè gente che interviene sui problemi diciamo dei cardiopatici sugli infarti spostandoli in un ospedale che non ha diciamo l'emodinamica quindi dobbiamo ragionare in termini di utilità e di economicità grazie dottore Laghi per essere stato con noi e buon lavoro grazie a voi grazie a voi buon lavoro e buon proseguimento grazie allora noi ci fermiamo per la consueta pausa ritorniamo fra pochissimo con le notizie in tempo reale tra poco seconda parte di prima pagina rientriamo in studio consueto ping pong fra le notizie in tempo reale le notizie ovviamente è apparse sui giornali di oggi per quanto riguarda le notizie di questa mattina abbiamo per esempio un sequestro a 10 milioni di euro infiltrazioni dell'andrangheta nelle ferrovie abbiamo anche droga un'operazione antidroga Cosenza Rende abbiamo tante altre notizie che fra poco qualcuna fra poco approfondiremo ma io per approfondirle mi faccio aiutare da chi ci ha raggiunto in studio il nostro collega Voltonotto di Tern che conoscete benissimo Gianluca Pasqua della redazione e buongiorno Gianluca e grazie per essere con noi e ti chiedo Gianluca ecco qualche anticipazione del telegiornale che andrei non lo ricordiamo alle 14 e 30 C'è la cronaca come dicevi ci sono diverse storie una in particolare che mi sembra meritevole di segnalazione vi invito a seguire poi il telegiornale perché ci sono alcuni approfondimenti sulla vicenda della coppia di anziani che è stata maltrattata da una badante una donna italiana di 60 anni che è stata arrestata e posta domiciliare dalla polizia di Cosenza ce ne siamo già occupati sabato sera nell'imminenza quando è stata resa nota questa notizia dalle forze dell'ordine oggi abbiamo approfondito ci sono dei particolari raccapriccianti purtroppo non è la prima volta non sarà l'ultima ci sono delle vicende che fanno davvero male questa coppia di anziani veniva vessata da una donna 60 anni diciamo non usiamo il condizionale in questo caso perché i familiari hanno utilizzato delle microcavene per riprendere quanto avveniva in questa abitazione del centro cittadino e poi la polizia ha ulteriormente indagato su questa vicenda ci sono delle scoriazioni ci sono dei lividi sul corpo della donna in particolare che era affetta ad alzheimer non vi dico altro non abbiamo naturalmente modo di farvi vedere le immagini ma ci sono dei racconti da parte delle forze dell'ordine e degli elementi che fanno davvero rabbrividire ecco questo è uno dei servizi parleremo anche di tanto altro poi vi ricordo alle 4.30 il nostro telegiornale con questo servizio che ci ha anticipato Gianluca ma anche tutti gli altri nostri servizi poi alle 15 il nostro consueto approfondimento sportivo del lunedì le vicende soprattutto di Cosenze e Catanzario in serie B allora approfitto della tua presenza Gianluca perché nel telegiornale parleremo anche chiaramente di Cosenze e Catanzaro non è che sia stato proprio un bel weekend per le nostre squadre no assolutamente no il Catanzaro è tornato sconfitto o meglio ha perso in casa con il Modena Modena che fra l'altro notavo sabato ha la Calabria come terra di conquista perché ha vinto sì ma anche nello stesso modo sì sì infatti rimonta due gol insomma due beffe fra virgolette Catanzaro che aveva colto la traversa con Ambrosino negli ultimi minuti e poi c'è stato il capovolgimento di fronte e la rete e poi il Cosenza invece autore di un primo tempo abbastanza buono un gol il vantaggio il controllo sulla partita e poi invece nella ripresa qualcosa si è spento io ho detto sabato ha messo il pilota automatico non è bastato contro la Fedal Pissarò assetata di punti che ha una squadra comunque dotata di alcuni elementi molto interessanti in particolare felici sulla destra ed è riuscito poi sia a pareggiare e anche a sfiorare il colpaccio al Marulla 3500 persone sugli spalti compreso gli abbonati quindi un sabato abbastanza grigio da quel punto di vista è un Cosenza che ha perso l'occasione per approdare in zona playoff occasione che si ripresenterà però sabato contro la Reggiana che ieri ha paeggiato con il Lecco segno che tutte le partite comunque sono la vivere fino all'ultimo Lecco che anche lì ha sfiorato la vittoria Catanzaro che giocherà venerdì sera in anticipo con il Venezia a Venezia e che questa è una prova davvero importante per i giallorossi Allora siccome ti sfrutto Gianluca siccome hai detto tutto tu sei stato preciso e perfetto come sempre l'unica persona che può dire qualcosa in più è il tecnico del Cosenza Caserta che andiamo a questo punto a sentire e io ti ringrazio buon lavoro grazie torno in redazione ultimi minuti prima del giornale si parla anche di PNRR di sfruttamento delle risorse e del tentativo di Roberto Chiuto di dire non mandatele al nord mandatele sì agli enti che producono di più ma nell'ambito territoriale che è del sud in questo caso Assolutamente allora grazie Gianluca allora noi invece ritorniamo sul calcio e sentiamo Caserta Ha detto bene lei al primo tempo dovevamo essere più veloci nel girare palla soprattutto dopo il gol che c'erano gli spazi dovevamo essere molto più veloci ad andare da una parte all'altra e dovevamo sfruttare il momento di difficoltà da parte della Feralpi il secondo tempo abbiamo fatto male ha fatto meglio la Feralpi dobbiamo essere obiettivi quindi la cosa positiva che bisogna prendere è il pareggio che abbiamo rischiato anche di perdere quindi la partita a mio avviso è stata questa dovevamo sfruttare meglio il primo tempo e cercare di fare il secondo gol il secondo tempo male abbiamo fatto male secondo me può capitare anche una giornata storta come ho detto prima siamo partiti non come al solito abbiamo avuto anche la fortuna e la bravura di fare gol poi dovevamo gestirla meglio dovevamo cercare di alzare il ritmo invece ci siamo accontentati di tenere lo stesso ritmo della Feralpi secondo me questo è stato l'errore più grande il primo tempo il secondo tempo non siamo entrati mai in partita per come dovevamo tenere tenere palla quando c'era da tenere palla ma soprattutto andare ad attaccare e non prendere delle ripartenze che poi ci sono costate veramente care spero e mi auguro che sia stata solo una giornata storta poi l'involuzione che non facciamo gol può capitare nell'arco di un campionato dove ci sono partite momenti dove fai gol tra virgolette con facilità e in alcune un po' meno in questo momento stiamo facendo più fatica a fare gol penso che durante l'arco non guardo la classifica non guardo è normale che quando non vinci non ottieni la vittoria la cosa più importante è ottenere le vittorie veniamo da un periodo da tre partite che non siamo stati bravi a portare a casa il risultato però non parlo di crisi parlo di una non prestazione oggi positiva e da questo dobbiamo ripartire e pensare che dalla prossima sarà un'altra partita altrettanto difficile e dobbiamo operarla bene perché come abbiamo visto anche nelle altre squadre si fa fatica il campionato di Serie B è talmente lungo e difficile che non sempre la squadra riesce a esprimere le proprie qualità oggi non siamo stati bravi però non mi deprimo nel non vittoria non mi esalto nelle vittorie quindi da domani pensiamo subito alla prossima partita abbiamo assaurito con Caserta tecnico del Cosenza prima abbiamo sentito Vivarini l'argomento sport che non è un argomento di secondaria importanza soprattutto il lunedì ma ci sono argomenti ancora più importanti soprattutto in questa fase li andiamo a scoprire attraverso le notizie in tempo reale allora andiamo sulle pagine web sulle home page iniziamo da quella di Repubblica punto it e si parla ovviamente della guerra in Israele Israele Hamas tutti gli italiani usciti da Gaza quindi una buona notizia per gli italiani meno però per quelle che sono le vicende legate alla guerra Israele uccisi i capi di Hamas nei tunnel gli Stati Uniti schierano nell'area anche un sottomarino nucleare un focus su cosa siano gli scudi umani e che prove esistono del fatto che a Gaza ora la popolazione si è usata per questo scopo poi altre notizie una notizia che preoccupa è quelle parole di Papa Francesco che questa mattina nella prima udienza della settimana ha detto praticamente di non star bene non sto bene di salute ed evita di leggere un discorso e questa è una notizia che è stata ripresa praticamente da tutte le testate questa mattina tutte le testate web quindi la troveremo anche sulle altre home page dei quotidiani web Corrado Augias lascio la RAI dopo decine e decine di anni passo alla sette questo governo incompetente mi ha spinto via la tocca piano Corrado Augias Conte vuole candidare a sindaco di Firenze Tommaso Montanari lo storico dell'arte può una condizione e poi Fratelli d'Italia congresso a Bologna celebre almirante tenta calenda un patto con il terzo polo Ox aumenta il reddito familiare quasi ovunque ma non in Italia e ci mancava figuriamoci una buona notizia in tal senso può arrivare e poi nuova stangata sui millennials la pensione anticipata a 64 anni diventa un'occasione da ricchi e poi diverse simulazioni e poi tante altre notizie trovate sulla Repubblica sul fatto quotidiano punto it sottomarino nucleare americano nel Mediterraneo Israele in 48 ore parte l'attacco finale a Gaza City sradicare sarà sicuramente a masse non risolverà il problema secondo Borrell e poi ancora Gaza senza farmaci aumentano amputazioni i bimbi disperati con le protesi continuerò gli studi i diritti negati delle persone disabili e poi Papa Francesco all'udienza con i rabbini non sto bene di salute e rinuncia a leggere il discorso e c'è preoccupazione quindi per le parole per le condizioni di salute del pontefice e al concorso per forestali arriva prima il figlio dell'ex capo che ha nominato la commissione risposte tutte giuste ma una era impossibile quindi ci sono dei dubbi per quanto concerne questo concorso almeno secondo il fatto quotidiano andiamo sulla stampa sempre la stampa.it la versione online del quotidiano di Torino che apre ovviamente con l'aggiornamento della guerra in Israele guerra in Medio Oriente le parole di italiani tutti gli italiani usciti dalla striscia Gaza accerchiata Israele uccisi comandanti di Hamas nei tunnel e poi ancora altre notizie che arrivano dalla fronte guerra ma c'è anche l'altra guerra la guerra fra Russia e Ucraina Zelensky ci sarà la diplomazia solo dopo l'uscita della Russia e l'Ucraina e missili ucraini hanno gravemente danneggiato la nuovissima nave russa Askold in Crimea Putin intanto si ricandiderà alle elezioni presidenziali del 2024 non ha ancora fatto dichiarazione ufficiale lo dice il Cremlino insomma di male in peggio per certi versi e poi dal Vaticano non sto bene di salute conferma però tutti gli impegni di oggi la Santa Sede è solo un raffreddore quindi vengono un po' smorzati gli allarmi relativi alle condizioni del Ponteficio andiamo sul messaggero Tajani tutti gli italiani usciti alla striscia di Gaza ancora le notizie che arrivano dal Medio Oriente attaccano i tunnel diversi capi di amassi uccisi a che punto siamo insomma dopo un mese di guerra la situazione in Medio Oriente approfondita dal messaggero viste fiscali tagliato l'orario per i lavoratori statali il Tar le ore di reperibilità devono scendere a 4 nuovi temporali arrivo dopo la tregua il maltempo viaggia verso sud e scendono le temperature per il momento ancora il calabrio le temperature sono abbastanza gradevoli Papa Francesco non sto bene di salute non legge il discorso ai rabbini i dolori all'anchi e il raffreddore le condizioni del Pontefice insomma ci si augura ovviamente di vederlo spesso presto in ottime condizioni nuova tempesta geomagnetica terza in tre giorni il sole al massimo della sua attività l'aurora boreale ecco cosa sta succedendo da un punto di vista astronomico sempre come dire argomenti affascinanti meno affascinante il traffico di droga assolutamente il livello della droga scoperto tra Napoli e provincia 5 gli arresti e poi ancora sul mattino punto it che approfondisce ovviamente i fatti della campania si parla anche ovviamente della guerra in israele Gaza City ha cerchiato nuovo appello dell'ONU gli stati uniti in Italia schierano un sottomarino nucleare il ritorno di Abu Mazen pronto a governare e poi l'occupazione dell'università orientale sostegno alla Palestina la protesta a Napoli e poi Francesco rivela non sto bene di salute le sue parole appunto stanno facendo il giro del mondo Aurora Boreale avvistata in Italia uno spettacolo definito senza precedenti e poi andiamo anche in Calabria qui Cosenza punto it Cosenza cerca di sfarsi alla droga gettando alla finestra 51 anni ai domiciliari ancora deteneva munizione e cocaina arrestato 36 anni nel Cosentino e poi occhiuto su alta velocità ferroviaria si va avanti senza tennamenti nel ritardo ne abbiamo parlato poc'anzi nella notizia della prima pagina del quotidiano del sud e poi le bellezze di Cassano e Sibari alla borsa del turismo archeologico di Pestum un po' di notizie che arrivano dalla provincia di Cosenza e precisamente da Cassano Ione con questa chiudiamo lo spazio dedicato ai quotidiani web allora a questo punto possiamo nel finale di Rassegna Stampa andare a dare un occhiato invece a quelle che sono le prime pagine dei giornali nazionali allora partiamo dal Corriere della Sera che apre come potete vedere con l'assalto finale che sarebbe pronto a Gaza purtroppo non buone notizie quelle che arrivano da Israele l'Italia deve preoccuparsi dei suoi soldati in Libano dice Teheran e la dramma un mese la blizza è quello relativo agli ostaggi vedete qui c'è queste due pagine dove ci sono le foto credo degli ostaggi ma al tempo i violi in campo politici ultra un errore va praticamente in scena Fiorentina Juventus nonostante le proteste del pubblico e di una parte del mondo politico la Lega ha fatto giocare e la Juve ha vinto 1 a 0 ma questa è un'altra storia riforma la caccia ai voti il testo non è blindato casellati noi aperte dalle modifiche argomento questo di politica che abbiamo anche trattato poc'anzi e ancora Corrado Augias che va via dalla RAI dopo 63 anni di RAI vado alla 7 e attacca l'attuale maggioranza e poi altre storie legate a Israele a ciò che sta accadendo alcune storie appunto legate alla guerra in Medio Oriente andiamo su Repubblica Abu Mazen dateci Gaza il ritorno appunto di Abu Mazen il leader dell'ANP dopo l'incontro con Blinken apre al piano statunitense ci assumeremo le nostre responsabilità gli israeliani cerchiano Gaza City il dilemma degli ospedali Teheran intanto chiama il rapporto il capo di Hamas c'è spazio ovviamente anche per la politica e non potrebbe essere altrimenti perché si parla tanto nella scuola settimana e se ne parlerà se ne parlate se ne parlerà del premierato la task force di Meloni per il referendum e anche questo trova spazio anche questo argomento trova spazio sulla prima pagina della Repubblica e poi si parla di telecomunicazioni rete team sia all'offerta di KKR ma vive in di annuncia battaglia e poi altre notizie l'Africa sul podio la maratona della Grande Mela la famosa maratona di New York insomma vincono gli africani e questa non è assolutamente una novità il messaggero la rete di team al fondo KKR arriva il via libera del consiglio di amministrazione piana da 22 miliardi scusa l'assemblea vive in di farà ricorso e poi l'apertura dedicata a Gazi il ritorno di Abu Mazen il leader dell'NPA Blinken pronto a prendere il governo il Papa chiama il presidente dell'Iran violenti scontri a nord della striscia un'altra strage al campo profughi antisemitismo allarme dell'Unione Europea prof carbonizzato arrestato un 82enne l'ombra dell'usura il pensionato non ha precedenti alla base del delitto un prestito a strozzo e poi il calcio con la rimonta messaggero non può che parlare della Roma la rimonta con Lukaku e all'ultimo respiro batte il Lecce il tempo anche qui vedete Lukaku che manda in delirio l'Olimpico anche qui grande spazio alla Roma ma anche alla campagna di fango paese flagellata Schlein fa propaganda pure sul disastro in Toscana ovviamente queste sono le diciamo interpretazioni di parte ovviamente il governo nomina Gianni commissario per l'emergenza danni per mezzo miliardo e poi la cessione della rete di team al fondo americano KKR la stampa Blinken tratta con i palestinesi Netanyahu no alla tregua Boumazen pronto a mediare l'Iran agli Stati Uniti c'è stato il fuoco o vi attacchiamo vedete il rischio è sempre dietro l'angolo che possa degenerare il conflitto e poi la Juve sbanca a Firenze ecco come la Roma come messaggero mette il risalto la Roma e la stampa di Torino mette il risalto le gesta della Juventus andiamo avanti con il mattino anche qui c'è il Napoli ovviamente il Napoli ritrova l'entusiasmo e si parla ovviamente di Champions League perché mercoledì il Napoli affronterà l'Union Berlino i tedeschi ma l'apertura è dedicata ovviamente all'ANP Abumazen pronti a guidare Gaza piano per il dopoguerra Siria Abumazen a Blinken via il ministro che è avvocato l'atomica in Israele nuova minaccia dell'Iran agli Stati Uniti c'è stato il fuoco sarete colpiti il capo di Hamas vede i camini campi flegrei costoni più fragili preoccupati sindaci dopo le continue scosse poi c'è anche la sanità terapie intensive poche le pediatriche al sud e allarme e ne sappiamo qualcosa noi in Calabria noi ci siamo ovviamente il resto del Carlino da grande spazio a quelli che sono i problemi nel centro Italia ovvero in Toscana sale a mezzo miliardo la conta dei danni dell'alluvino in Toscana l'impegno dei volontari per spalare il fango il ministro Musumeci bisogna prevenire meglio andiamo avanti poi con il giornale licenziamenti e paga ridico lo scandalo alla CGL la rete team agli americani ora tocca al tesoro asse tra Blinken e a Mumaz e Bergoglio parla con Teheran il fatto quotidiano Israele governo di Pazzi quello che vuole l'atomica solo sospeso ovviamente interpretazione diversa dei fatti del fatto quotidiano ultimissime prime pagine sono quelle sportive la gazzetta dello sport risposta al Max ovviamente la risposta alla Juventus grazie la risposta all'Inter da parte della Juventus grazie al gol di Miretti ma Inzaghi corre più di Conte i numeri della capolista poi Lukaku salva Murigno avanti compiò la crisi Milan tostissima il riferimento veramente alla Juventus che batte la Fiorentina in maniera diciamo abbastanza particolare con grande non con un grande calcio ma con grande resistenza la Juve corre vince a Firenze e poi tutto sport Juve Park per riferimento al famoso Viola Park e alla fine la risposta della signora anche su QS che parla anche di tennis della vittoria di Djokovic e al Milan che chiede aiuto a Ibraimovic ci fermiamo qui io adesso vado via voi restate su TN perché c'è il telegiornale a domani sempre alle 13.30 grazie buona giornata grazie a tutti